L'obiettivo nuovo per la Paganese è quello di riconfermare nuovamente Simone Mattia, il difensore centrale che può anche coprire la fascia destra della difesa, sembrava essere indirizzato verso altre squadre e invece potrebbe nuovamente vestire la casacca degli azzurro stellati. Il calciatore romano, autore della passata stagione di 20 presenze e due reti, è finito nuovamente sul taccuino del DS Accardi e ci sarebbero buone chance di un nuovo rinnovo. L'altro nome invece porta al giocatore rumeno Daniel Onescu, il centrocampista 27enne e reduce da un campionato DC da titolare con la maia della Virtus Verona, dove ha totalizzato 25 presenze e siglato una rete. I buoni rapporti di Onescu con Erra e con Sirignano potrebbero favorire questa trattativa. In porta invece, dopo l'arrivo in prestito secco di Mattia Campani, si cerca un portiere esperto che accetti da fare da chioccia al giovane porterino del Sassuolo. Cavese invece, dopo i ritardi causa Covid, ha finalmente cominciato la preparazione in quel dinusco due giorni fa. Nei primissimi giorni irpini, la squadra, sotto gli occhi attenti di mister Modica, ha svolto lunghe corse sulla pista e sul manterboso del campo sportivo Fontanelle. Dal calcio mercato, dopo l'arrivo di Ciro De Franco e le eccezioni di Sainz Maza e Adessi passati rispettivamente al Gubbio e al Messina, il club si deve concentrare soprattutto sull'attacco. L'obiettivo è quello di trovare un profilo ideale che sappia attaccare gli spazi e che sia un elemento importante del 4-3-3 di Modica. In Serie D, invece, la Nocerina ha concluso la sua prima parte di ritiro in quel di Brasigliano. Ieri pomeriggio partitella in famiglia a Siano dopo una settimana di duro lavoro per smaltire gli scarichi. Risultato finale 3-1, in evidenza con la doppietta Francesco Manoni, poi le reti di Diachite e dell'Under Pisani, che dovrebbe essere vicino al rinnovo. A proposito di giovani calciatori, in questo raduno ne sono contraddistinti il greco Kat Seris, il difensore Vincenzo Massa, Fois e il giovanissimo Edoardo Esposito. Questi quattro sembrerebbero essere vicini all'ingaggio con i rossoneri. In ambito over, invece, piace Giuseppe Ungaro, il 25enne Mancino, che può giocare anche come trequartista, e Scuola Atalante, a giocare sempre tra i professionisti. La scorsa stagione ha collezionato con il Bisceglie 12 presenze. In attacco, invece, è molto difficile, almeno per il momento, ad arrivare a Ripa, che ha mercato dai professionisti. La scorsa stagione ha collezionato con il Bisceglie 12 presenze. Grazie. Grazie.